I vincoli erano già efficaci ma si costruì ugualmente. Oggi per l'area Nord 2 dell'Exasi arrivare ad una soluzione appare molto difficile. Rilasciare autorizzazioni per nuovi insediamenti ma anche per sviluppare quelli già presenti è praticamente impossibile. La questione l'ha sollevata e responsabile al riserva Biviere Emilio Giudice al quale spetta definire i pareri sui progetti in quell'area. Con i vincoli non rispettati, pensare ad iniziative in quelle aree andrebbe in contrasto con le norme anche comunitarie. La scorsa settimana l'assessore Terenziano Di Stefano, il presidente della Commissione Urbanistica Vincenzo Casciana, hanno avuto un confronto con i funzionari dell'assessorato regionale territorio ambiente. L'ipotesi attualmente sul tavolo è di puntare su un progetto a compensazione che andrebbe a tutelare l'aspetto ambientale. Lo studio di fattibilità 17 anni fa venne realizzato proprio dalla riserva Biviere. La regione avrebbe dovuto provvedere a prenderlo in carico, a finanziarlo. Non se ne fece nulla. Oggi sembra una delle poche soluzioni percorribili. Sarà per una sorta di corsa contro il tempo. Nell'arco di una decina di giorni dovrebbe essere adeguato con un progetto perlomeno definitivo. In questo modo si potrebbe tentare di arrivare ad un finanziamento attraverso la regione per un ammontare che si aggira su somme tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Sempre la scorsa settimana c'è stato un incontro nella sede locale di Irsap, l'ente subentrato all'ex Asi. Di Stefano ha chiesto formalmente ai tecnici Irsap di adeguare lo studio di fattibilità attraverso un progetto definitivo. Mercoledì dovrebbe arrivare la risposta. Se non ci fosse la disponibilità allora tutto si complicherebbe ancora di più. Ci sono gruppi imprenditoriali che guardano con molto interesse all'area Nord 2 anche nell'ottica delle agevolazioni garantite dalla zona economica speciale. Non ci sono però garanzie su eventuali sia progetti di investimento se prima non si procederà con le compensazioni ambientali. La commissione consigliare sviluppo economico ha avuto un primo contatto con giudice e dovrebbe tenersi un incontro nei prossimi giorni. Secondo il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Virginia Farruggia che fa parte della commissione sviluppo economico da Emilio giudice non c'è mai stata una chiusura. Secondo Farruggia è stata invece l'amministrazione comunale a non dare seguito ad un'intesa complessiva sulla questione. Proprio dei vincoli e dei pareri per le autorizzazioni una convenzione era già pronta. Secondo Farruggia infatti l'amministrazione comunale attualmente come se fosse divisa in due. C'è chi ha il coraggio di guardare ad una nuova visione anche su questi temi. Farruggia si riferisce all'assessore di Stefano al dirigente Emanuele Tuccio con il parere sul progetto Argo Cassiopea. In quel caso si è trovato un equilibrio tra tutela ambientale e le esigenze produttive. Secondo Farruggia appunto si può arrivare ad un'intesa però l'amministrazione comunale dovrebbe dimostrare di averne veramente la volontà.